Chiudere, un altro omaggio proprio da parte dell'Accademia della Danza di Roma che pensate a ben più di 700 allievi e può vantarsi di aver avuto la direzione onoraria di una leggenda come Pina Bausch. In occasione del protocollo di intesa tra Italia e Canada il direttore artistico del Vancouver City Dance Theatre Roberta Baseggio ha cercato e ha creato una coreografia per i giovani allievi di qui sulla musica di Armand Amar, Rise and Shine. Noi vi salutiamo, grazie e buonanotte, all'anno prossimo sarà l'undicesima edizione del Roma Danza, sarà 2012. Buonanotte a tutti! Grazie 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 a tutti! Applausi! Grazie a tutti! Applausi! 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 Grazie! Applausi! Grazie a tutti! !